dalla riviera ai monti potrai accedere gratuitamente ad internet e servizi online con tablet smartphone pc portatili e liguria wifi se programmi un viaggio in liguria registrati da casa e ottieni subito le tue credenziali liguria wifi troverai indicazioni sulle zone coperte dal servizio e molte altre informazioni utili sarà facile trovare le aree liguria wifi ed iniziare a navigare liguria wifi è connettività servizi online stessa username e password su tutto il nostro territorio se non ti sei registrato a casa potrai farlo direttamente presso un'area liguria wifi in modo semplice ed immediato liguria wifi è anche per i cittadini una compagna quotidiana per svago per lavoro liguria wifi è per tutti liguria wifi una regione connessa grazie a tutti grazie a tutti